Federico Medvedi Revisore Buongiorno a tutti, cominciamo con una domanda. Quanti di voi hanno figli in sala? Ecco immagino che vi sarà capitato quello che è capitato a me, o che capita a me, di dire a mio figlio guarda non guardare troppa televisione perché fa male. Giusto? In realtà non sempre è così. Quando ero giovane ho visto questo telefilm. In questo telefilm a un certo punto c'è questo astronauta che finisce schiantato per terra per un problema e bisogna in qualche maniera capire cosa possiamo fare. E a un certo punto c'era un signore che appariva durante il video che diceva abbiamo la tecnologia, possiamo ricostruirlo. E questa persona diventava l'uomo bionico sostanzialmente. Capace di correre più veloce, di guardare benissimo, di sentire qualunque fruscio eccetera. E quando ero adolescente, guardando il suo telefilm, decisi che volevo fare questo. Volevo in qualche maniera ricreare un pezzo dell'uomo bionico. E in particolare, visto che come dice qualcuno, se vuoi fare una cosa falla grossa, volevo aiutare le persone dopo un'amputazione a riavere la stessa destrezza della mano naturale. La nostra mano è uno dei due flagship dei primati, oltre chiaramente alla corteccia e al cervello. La nostra mano è capace di fare cose molto delicate, allo stesso tempo di fare prese di grande potenza, con una ricchezza sensoriale straordinaria. Riusciamo a sentire la texture di oggetti, temperatura, la forza di presa eccetera. Allora il mio obiettivo era proprio di, ed è, di aiutare queste persone a recuperare questa destrezza. Ed è un pochettino come, sempre facendo un po' di fiction, quanti di voi sanno cos'è uno stealth? Meno male. È comunque un aereo molto particolare, capace di non essere visto ai radar. Ok? Immaginate che in qualcuno di questi film particolari ci siano due stealth che vengono trovati uno vicino all'altro dopo la seconda guerra mondiale. E immaginate in maniera un po' più facilona che ci siano due pulsanti start, ok? Nei due stealth. In uno lo scienziato matto dell'epoca pigia e si riaccende tutto e lo stealth parte, nell'altro fa... e torna giù. Allora l'obiettivo dello scienziato pazzo, perché il Presidente degli Stati Uniti nell'area 53 lo vuole assolutamente capire, è di capire come funziona lo stealth che in qualche maniera riparte magicamente, pur non avendone la tecnologia e la conoscenza scientifica, per riparare l'altro stealth. Quello che noi che ci occupiamo di neuroprotesi cerchiamo di fare è esattamente questo. Cercare di capire, insieme a colleghi neuroscienziati, neurofisiologi, come funziona il sistema nervoso, come la mia mano che smanetta in questo momento e viene controllata dal cervello, per aiutare le persone disabili. In particolare il mio obiettivo è di ricreare un controllo bidirezionale fra il sistema nervoso del paziente amputato e la mano protesica. Quando io prendo un oggetto esiste una serie di comandi che, la linea rossa, dal cervello vanno alla periferia e che mi servirebbero a controllare i miei muscoli. Il mio obiettivo è di prendere queste informazioni e di utilizzarle per controllare la protesi, quindi arrivare sostanzialmente dove è l'azione nell'autostrada che dal sistema nervoso centrale vorrebbe arrivare ai muscoli che non ci sono più. Allo stesso modo una mano protesica sensorizzata ha una serie di informazioni che io posso rimandare indietro al sistema nervoso centrale, come? Stimolando i nervi sensoriali che normalmente sarebbero attivati dai sensori naturali che la mano naturale ha in abbondanza. Questo tipo di protesi permetterebbe di recuperare in maniera naturale la capacità di prendere oggetti, di avere informazioni tattili e risolverebbe quello che ad oggi è il problema principale delle persone amputate. Esistono e c'è stata un'evoluzione molto interessante in tal senso negli anni. Molte protesi destre evolute con molti gradi di libertà cominciano a venire fuori anche commercialmente, ma il problema è che il paziente non le usa o le usa con grandi difficoltà e in particolare le sente come un corpo estraneo perché non riesce ad avere delle informazioni sensoriali sufficienti per avere quello che nel gergo si chiama embodiment. In particolare qui vedete rappresentata la struttura dei nervi che dal midollo spinale vanno giù verso la periferia. È una struttura particolarmente complessa, è una grossa enorme rete autostradale con una serie di diramazioni qui e lì. In più, giusto per complicarci ancora di più la vita, ciascuna di queste autostrade ha al suo interno una serie di piccole vie inserite in quello che si chiama tessuto connettivo, che è una specie di guaina protettiva. In realtà quello che io vorrei fare è arrivare a parlare con questo signore qui, all'interno di un'autostrada che come vedete è molto gerarchica e che si suddivide in una serie di ulteriori piccole diramazioni. Per far questo esiste una serie enorme di possibilità tecnologiche, di quelle che si chiamano interfacce neurali, ovvero sistemi che si dovrebbero appunto andare a connettere al sistema nervoso periferico e che si può dire che l'invasività è di selettività. Selettività vuol dire la capacità di andare a parlare con quello specifico piccolo fascicolo che vi ho mostrato prima, l'invasività è quanto lo fai a spese di una maggiore invasività e ridotta biocompatibilità. Capite bene che la scelta dell'interfaccia è anche legata, oltre ovviamente al desiderio di ridurre per quanto possibile l'invasibilità, l'invasività anche al tipo di applicazione. Potete immaginare questo come un grafico di automobili, l'invasività è il costo, la selettività sono le performance. Io voglio comprare un Porsche per andare in macchina veloce e divertirmi, ma forse non è così sensato utilizzare lo stesso Porsche per andare a fare la spesa la mattina al supermercato. Quindi la scelta dell'interfaccia è un requisito essenziale per ottimizzare, per raggiungere lo scopo che desideriamo. E in particolare per questo specifico tipo di applicazione legata al controllo di protesi a molti radii di libertà, esiste secondo me un'area, che sono le interfacce intraneurali, che potete immaginare lo vedremo fra un attimo come degli aghi che entrano nel nervo periferico, che hanno un buon rapporto costo-qualità, se volete. Sono abbastanza selettive, pur non essendo perfette, ma in questo momento permettono un impianto su un paziente. Perché l'altro obiettivo che abbiamo ovviamente è di dare qualcosa di realmente utile domani al paziente, aspettando l'evoluzione della tecnologia, ma non aspettare 20 anni per fornire qualcosa. La cosa interessante, qui vedete un impianto, scusate l'immagine un po' sanguinolenta, quello che si fa è entrare con un ago nel nervo, e con esso l'elettrodovere proprio, che nel nostro caso è una striscetta di un materiale plastico, una cosa piccina, che viene inserita, e vi mostro questa immagine che è relativa all'impianto di cui vi parlerò fra un attimo nel nostro primo paziente, perché due anni fa sono stato invitato a Pittsburgh, al primo congresso di medicina rigenerativa, e prima di me, per caso, parlavano di trapianto di mano. Diciamo, una delle classiche domande che giustamente mi fanno è perché le interfacce neurali, perché non il trapianto. Il trapianto di mano, l'immagine che il chirurgo ha mostrato, erano due team di 20 chirurghi, di 10 e 10, 20 chirurghi totali, impegnati in maniera incredibilmente concentrata per fare il trapianto della mano. In questo caso, questo è un intervento che un chirurgo da solo fa molto agevolmente, e in generale racconto sempre come durante il training, il dottor Denaro, il chirurgo che ha fatto l'impianto a Roma, di cui vedete l'immagine, durante il training a un certo punto, su un modello animale, ha cominciato a rispondere al telefono, al cellulare, ai pazienti, perché era così tranquillo, non col paziente, nel training con animali, state tranquilli, se non lo denunciano, povero Luca. Però ecco, diciamo, il vero problema è che la tecnologia del trapianto di mano richiede, fra le altre cose, uno sforzo chirurgico che in questo caso, vedete, non è necessario. Quindi, una volta identificata la tecnologia, insieme al gruppo del professor Rossini, che è il neurologo responsabile degli aspetti clinici, abbiamo identificato il primo paziente e gli abbiamo fatto un impianto di breve durata, quattro settimane, sulla base delle regole previste per l'uso di questo tipo di tecnologia, per capire due cose. Primo, se era possibile estrarre le informazioni motorie e controllare le prese, i tipi di presa, il movimento della mano in maniera più o meno efficace, e secondo, se potevamo davvero recuperare, in qualche maniera, una sensazione alla mano fantasma, permettendo al paziente di sentire tipi di presa differenti su parti differenti della mano. Quello che abbiamo fatto con Pierpaolo, che oltre a essere il paziente è poi diventato ovviamente un amico durante questa sperimentazione, abbiamo impiantato quattro di questi elettrodi in due nervi principali del braccio, con l'idea appunto di vedere quanto potessimo essere in grado di recuperare questo tipo di controllo. La prima cosa che abbiamo chiesto a Pierpaolo è di guardare un video con una serie di tipi di presa che vedete presentati nella slide e lui doveva immaginare di controllare la mano fantasma cercando di registrare, di ottenere il tipo di presa che gli mostravamo. In parallelo, quello che noi facevamo era di estrarre le informazioni neurali. Volevamo sostanzialmente capire se sulla base di una serie di dettagli di elaborazione dei segnali, potevamo estrarre segnali diversi relativi a intenzioni di movimento diverse. Nella slide vedete come ci sono differenti colori, ci sono quattro task, nessun task, due tipi di presa e un movimento del dito e idealmente quello che noi volevamo è avere differenti colori che corrispondono a differenti attività neurali per differenti task e vedete bene come è abbastanza vero, qui non c'è nulla come dovremmo aspettarci, l'attività è silente e ci sono colori diversi, spesso per esempio in questo caso il giallo e il rosso qui è quasi completamente assente. Quindi la prima risposta è sì, possiamo estrarre delle informazioni e quello che abbiamo fatto dovete fare un attimo e chiedere a Pierpaolo di utilizzare... Pierpaolo poteva controllare in tempo reale utilizzando le sue informazioni sensoriali i vari tipi di presa che vi ho mostrato in precedenza. Questo per tutti i tipi di presa con un aspetto molto interessante legato al miglioramento delle prestazioni. Pierpaolo è sembrato imparare ad utilizzare questo nuovo canale di controllo che gli stavamo fornendo. inoltre siamo riusciti a dare a Pierpaolo delle informazioni tattili alla mano fantasma. Pierpaolo riusciva, stimolando alcuni contatti dei due nervi nei quali avevamo imparato gli elettrodi, Pierpaolo riusciva a risentire la forza nelle due aree specifiche della mano relativa ai due nervi che stavamo stimolando e questo, nei dieci giorni in cui siamo riusciti a farlo, era molto ripetibile e consistente nel tempo. Quindi tornando alla domanda precedente, possiamo sia registrare segnali neurali e utilizzarli per controllare una protesi in maniera naturale, almeno per un numero limitato di tipi di presa e allo stesso momento possiamo anche ridare delle informazioni tattili al paziente. Il passo seguente è stato, nell'ambito di un progetto europeo, sviluppare in particolare il collega Thomas Stiglitz ha sviluppato un nuovo tipo di elettrodo. Se immaginate, se ricordate la slide sulle macchine, sul costo e il beneficio delle macchine, è un elettrodo che teoricamente ha lo stesso costo di quello appena mostrato, ma con delle prestazioni potenzialmente molto interessanti e superiori. L'obiettivo è di, nei prossimi mesi, fare un nuovo impianto, ma questa volta il nuovo candidato dovrà controllare, potrà controllare la protesi attaccata al suo arto e non teleoperata, come avete visto nel video di Perpaolo. Qual è l'obiettivo? Abbiamo moltissimi obiettivi ovviamente che speriamo di raggiungere, in particolare vogliamo capire quanto feeling sensoriale, quante informazioni tattili possiamo fornire. Sempre una delle grandi domande è se è possibile fornire delle informazioni multisensoriali in parallelo, quindi se il cervello riesce a riprendere informazioni relative alla presa per varie dita, se questo facilita l'embodiment, che potenzialmente vuol dire migliore controllabilità probabilmente, e se tutto questo può essere fatto in tempo reale aiutando potenzialmente il paziente a recuperare una capacità migliore di controllare le protesi che sono attualmente in commercio. In conclusione vi lascio con Luke Skywalker, speriamo un giorno davvero di permettere ai pazienti con amputazioni di mano la stessa destrezza che Luke Skywalker, la stessa sensorizzazione che Skywalker mostrava in questo video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.